Siamo tutti consapevoli che internet rappresenti un elemento di forte discontinuità, ormai dopo quasi 15 anni di internet economy ci sono elementi di eccellenza in tutto il mondo, rispetto ai quali ovviamente l'Italia non eccelle ma vorrei seguire un approccio più ottimistico del solito e quindi valutare quello che è successo negli ultimi mesi. Credo che il 2010 abbia rappresentato per l'Italia un momento di risveglio onestamente rispetto a una letargia che si prolungava da quasi un decennio, ovviamente mi riferisco all'aspetto digitale, all'internet economy nel caso specifico. Abbiamo visto dal nostro osservatorio abbastanza privilegiato una crescita di interesse da parte di aziende nazionali e internazionali per il digitale e soprattutto ovviamente in un'ottica di comunicazione e di investimenti digitali. Vi assicuro che questo crescendo fa molto ben sperare, i nostri tassi di crescita sono decisamente superiori ai livelli generali di Google in tutto il mondo e credo che testimoniano appunto questo renaissance che sta arrivando anche in Italia in ambito digitale. È una grossa opportunità, ci sono segnali interessanti soprattutto guardando al futuro per quanto concerne l'utilizzo di smartphone che ovviamente tutti hanno compreso essere la prossima grande cosa per quanto riguarda l'utilizzo di internet. E se ci pensate bene in un mercato come quello italiano ovviamente dove principalmente intorno alla moda, al turismo, alla cultura in generale ma anche alla cultura alimentare ovviamente riuscire a fornire delle risposte chiare ai consumatori e ai turisti attraverso delle soluzioni di mobilità rappresenta il futuro. Quindi se forse abbiamo perso un po' di territorio rispetto a altri paesi nella prima ondata dell'internet economy ci sono buoni segnali che nei prossimi mesi, nei prossimi anni ci sia la capacità di interpretare in una logica forse un pochino più nazionale, più italiana, quello che potrebbe essere un'opportunità di business per piccole, medie e anche grandi imprese. Ovviamente di pari passo questa rivoluzione, questa discontinuità di internet comporta l'adeguamento delle norme e delle regole e ovviamente auspichiamo che questo avvenga in un contesto più generale, in un contesto europeo in modo tale da offrire alle aziende che operano e sostengono grossi investimenti in ricerca e sviluppo delle soluzioni che siano gestibili e che non rappresentino per ogni singolo mercato è stata ovviamente una sfida in più di tipo normativo. La vostra iniziativa è semplicemente fantastica perché si inserisce in questo contesto, per noi di Google è stato assolutamente naturale partecipare e aderire e concludo ringraziando di nuovo. Grazie. Grazie.